Hanno messo a segno una lunga serie di furti nelle auto in sosta, muovendosi scaltri tra la Romagna e le Marche. In manette è finita una coppia di nomadi, lui 43enne, la moglie 35enne, Novelli Boni & Clyde. Da dicembre 2018, ad agosto 2019, i due avrebbero messo a segno almeno 63 colpi. Gli autori delle scorribande criminose sono stati arrestati dai carabinieri del Norm di Osimo, nell'Anconetano, dove la coppia ha colpito per la prima volta, portando a termine l'operazione On The Road che ha dato esecuzione all'ordinanza di custode cautelare in carcere, messa dal giudice per l'indagine i preliminari del Tribunale di Ancona Carlo Masini, su richiesta del sostituto procuratore Rosario Lionello. L'inchiesta è giunta a conclusione dopo quattro mesi di indagini. I Novelli Boni & Clyde, di origini rom, originari del Piemonte, ma residenti, ormai in pianta stabile in provincia di Ancona, avevano architettato tutto a tavolino, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dell'arma. Lei fungeva da palo, mentre il marito si introduceva nelle auto in sosta, asportando borse, portafogli, contenenti denaro, smartphone e carte di credito. Con i banco matrubati in particolare, si recavano agli sportelli automatici più vicini e prelevavano centinaia di euro. I due colpivano soprattutto fuori da cimiteri, scuole e parchi o nelle vicinanze di percorsi pedonali frequentati dagli amanti del jogging. Alla coppia vengono addebitati 63 furti, 10 a Rimini, 29 ad Ancona, di cui si dice Osimo, 4 a Fano e 20 a Macerata, di cui si è arrecanati. Ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e in debito utilizzo di carte di credito.